buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 23 agosto 2023 e oggi si festeggia sfogliando l'almanacco del giorno santa rosa da lima una delle prime sante dell'america latina senza era era una scuola era una suora dominicana che da piccola fece voto di verginità subì molte persecuzioni che sopportò con grande forza e fu una grande devota di santa caterina e di lei ebbe molte molte visioni santa rosa da lima una santa tutta da scoprire ma noi purtroppo non abbiamo tempo per cui passiamo subito alle previsioni atmosferiche oggi su tutte le marche tempo stabile asciutto con cielo sereno clima caldo e a tratti ancora a foso massime fino a 35 36 gradi verso poco sarà la temperatura di ieri le minimi si sono attestate a 21 gradi i venti sulle coste spireranno da nord nell'interno da est nordeste il mare il mare è calmo come sempre andiamo a verificarlo da i bagni sergio lorenzo premi buongiorno lorenzo buongiorno buongiorno a tutti torniamo ai bagni sergio una delle concessioni più qualificate della sassonia ma devo dire che la sassonia è un po una spiaggia tutta qualificata si dice che il lido è il salotto di fano ma lorenzo la sassonia cos'è allora ma io penso che negli ultimi anni la sassonia ha dimostrato che è un punto di riferimento per il turismo noi negli ultimi anni stiamo lavorando veramente bene e non penso che non abbiamo nulla che invidiare al lido al lido c'è la sabbia e sassonia invece ci sono i sassi questo fa una grossa differenza che cosa trovano i turisti in una spiaggia sassosa ma sicuramente più pulizia sicuramente c'è più c'è più c'è più igiene pulizia sicuramente su sui sassi dopo è anche vero che anche la spiaggia di sabbia al suo fascino e certo la spiaggia poi è una spiaggia che è particolarmente adatta ai giochi dei bambini io questa mattina sfogliando il giornale preparando la nostra rassegna stampa ho visto un articolo che sarebbe il caso di commentare dunque vediamo un po se se lo ritrovo è un articolo che riguarda il costo delle spiagge un costo che è aumentato parecchio per quanto riguarda ma tutto il turismo è un po è aumentato ci sono tre operatori che parlano questa mattina di questo argomento abbiamo mauro mandolini che è presidente della confartigianato per quanto riguarda i concessionari di spiaggia abbiamo luciano cecchini presidente degli albergatori e poi abbiamo boris trappa che è portavoce di ass hotel della confesercenti dice dopo il caro vita che c'è stato e dopo la chiusura della contessa e il calo che abbiamo avuto per quanto riguarda i concessionari di spiaggia e gli alberghi che si aggira sul 25 30 per cento rispetto all'anno successivo l'anno scorso e anche la chiusura della contessa dicevo occorrerebbe che le scuole cominciassero due settimane più tardi in modo che le famiglie possano ancora stare in vacanza ti sembra un'idea questa ovviamente è condivisibile ma sicuramente ci può ci può ci può stare se il tempo come dicevamo ieri lo permette ancora le spiagge comunque sono agibili quindi penso che sia un'ottima idea ebbene però deve lo deve decidere sia la regione marche che il governo perché è una decisione che prende un po tutta tutta la nostra nazione spostate rientro a scuola a fine settembre questo l'appello che sorge dal settore del turismo gli anni scorsi i ragazzi i ragazzi senz'altro i ragazzi senz'altro che possono così godere di due settimane di vacanze in più comunque è il la seconda metà di agosto è stata diciamo così compatibile insomma non è stata così terribile come si pensava l'esodo dei turisti non c'è stato c'è stato anche un ricambio rispetto a quelli che se ne sono andati e quelli che sono arrivati e lorenzo guarda noi ripeto dicevo ieri la prima parte della stagione non c'è stato questo gran movimento dalla seconda settimana d'agosto abbiamo iniziato a vedere un po più di incremento per quanto riguarda i turisti benissimo si dice che domani ancora adesso ancora adesso la spiaggia la gente la gente c'è si dice che domani il tempo cambi forse si respirerà un po di più comunque il fine settimana dovrebbe essere dovrebbe tornare il tempo buono e poi domani comincia la domenica domani comincia la fiera quindi i turisti in sassonia non dovrebbero mancare perché poi la fiera attrae perché fa colore locale è un'occasione economica importante quindi quindi ci sarà tanta tanta gente benissimo lorenzo ti ringrazio per questo nostro incontro mattutino ti auguro un buon proseguimento di stagione poi magari ci risentiremo anche nel futuro buona giornata va bene a presto apriamo il giornale oggi sul Corriere su no sul resto del Carlino apriamo il resto del Carlino e vediamo subito la pagina di Fano dove si inizia con una intervista che Maurizio Gennari fa al sindaco Massimo Seri il quale risponde tra temi di carattere politico e temi di carattere amministrativo seri tra porto vitruvio e discarica il mio erede una scelta di gruppo Maurizio Gennari il giornalista ha tentato di così chiedere al sindaco chi sarà il suo successore alla guida della città di Fano ma il sindaco ha un po' svicolato questa domanda e ha detto non spetta a me decidere chi sarà il candidato del centro-sinistra è una scelta di gruppo che deve essere ancora formalizzata e a parte alcuni candidati come Giuseppe De Leo di una lista civica e qualche nome che è sorto nel centro-destra ancora la compagine non è affatto definita il mio erede una scelta di gruppo il primo cittadino affronta una serie di temi sui fiuti apre con Pesaro e attacca anche Confindustria e poi ti rimballo anche Fano TV perché glielo suggerisce appunto il giornalista due nomi messi lì non a caso perché sono ormai due divi di Fano TV dice Gennari riferendosi a Barbara Brunori e ad Etienne Lucarelli si sono due nomi molto presenti nei nostri telegiornali perché uno riguarda il turismo ed estate se non si parla di turismo ovviamente non si parlerebbe di una fetta importante del nostro vivere sociale e l'altra parla di lavori pubblici i lavori pubblici sono ugualmente importanti sono molti quelli che giungono a conclusione di questo mandato amministrativo e quindi ovviamente sono due nomi presenti ma le porte e le porte di Fano TV sono ovviamente aperte a tutti e basta che ci siano dei temi importanti che interessano i nostri ascoltatori. E veniamo ora a quell'articolo che avevo menzionato prima con Lorenzo Premi il concessionario di spiaggia dei bagni Sergio spostate il rientro a scuola a fine settembre e qui vediamo Mauro Mandolini, Luciano Cecchini e Boris Strappa. Tre aspetti del nostro turismo, i bagnini, gli albergatori e appunto l'assotel sempre per quanto riguarda gli albergatori è un appello che gli operatori del turismo hanno lanciato a regione e governo per salvare una stagione sempre più impicchiata anche se il prossimo mese riaccende le speranze. Settembre è molto bello per andare in vacanza se fa bel tempo è una temperatura più umida rispetto al mese di agosto, le spiagge sono meno affollate, si gode di più tranquillità ed si apprezza di più il binomio che Fano, singolare città in tutte le marche, può offrire in maniera molto molto determinata ovvero quello dell'accostamento tra la vacanza balneare e quella artistico-culturale dell'entroterra. Veniamo ora alla cronaca, un incidente molto grave, si è verificato sì per le sue conseguenze ma non tanto per quelle quanto per le modalità in cui si è verificato. Ebbene un'auto ha investito una mamma e una bambina mentre attraversavano la statale adriatica sud nelle strisce e questo è veramente grave. Mamma e figlia di 5 anni travolte sulle strisce è successo davanti al camping Mimosa Torrette investite da un furgone condotto da un 52enne di cartoceto alla guida di un furgone frigo che all'ora di pranzo ha investito appunto la trentenne, la mamma trentenne, la figlioletta. Purtroppo la più grave è apparsa la figlioletta che è stata ferita ad un braccio e stata portata all'ospedale di Torrette di Ancona. Per fortuna non versa in pericolo di vita. Su questa strada vanno veloci, servono dissuasori e telecamere, qui attraversano in migliaia, ha detto il titolare del camping Mimosa. Al Comune la gestione di Ponte Bigio e altre aree demaniali. Un passaggio avvenuto ieri, questo con la firma del Sindaco Massimo Seri, con la Capitaneria di Porto di Pesaro. Ci sono dei lacerti, degli spazi, delle aree che passano di competenza dall'Agenzia del Demanio al Comune di Fano. E qua sono elencate. Quella più importante è quella del Ponticello che attraversa l'Arzilla alla foce tra Lido e spiaggia dell'Arzilla. Vediamo ora un articolo che riguarda terre roveresche, dove si parla ancora di vandalismo. Baby vandali devastano il campetto. Si tratta di un campo da calcetto sintetico di barchi dietro all'asilo nido comunale, che è stato devastato da un gruppo di baby vandali, la cui individuazione potrebbe avere delle ore contate perché ci sono le telecamere e quindi ora si è al vaglio delle immagini. Non si può definire questa una semplice bravata, ma è un atto che va contro il senso civico. Che cosa stiamo trasmettendo ai nostri ragazzi? È l'interrogativo anche che il sindaco Antonio Sebastianelli lancia alle famiglie. Cerchiamo tutti di contribuire alla educazione delle giovani generazioni affinché anche esse tengono al decoro e all'immagine delle nostre città. Mondavio, in arrivo le telecamere intelligenti che leggono le targhe sono occhi veramente per perfezionati, quelli che verranno installati nelle strade, tra tre gli occhi elettronici che il Comune installerà entro la prossima primavera. Arrivano le telecamere, lo ha rivelato il sindaco Mirko Zenobi. Abbiamo ottenuto un contributo di 46 mila euro attraverso un bando del Ministero dell'Interno e quindi ci sarà anche un cofinanziamento di 20 mila da parte del Comune e quindi da 46 mila si arriverà a 66. Da oggi abbiamo una novantina di giorni per appaltare i lavori che saranno eseguiti entro la prossima primavera, ha detto Zenobi. A Urbino si lavora all'interno del Palazzo Ducale, definito il cantiere della cultura. Prende sempre più forma alla Galleria Nazionale delle Marche, la valorizzazione e la cura delle collezioni grazie ai fondi ottenuti con il PNRR. Ci sono dichiarazioni sul giornale del direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo. Stiamo portando avanti un ampio progetto di valorizzazione, ha detto, dell'arte marchigiana, seguendo in questo la mission della Galleria Nazionale perché la nostra storia culturale ha radici solide nel territorio. E quali sono questi lavori che stanno per essere eseguiti? Il prossimo anno segnerà un passo importante. Agli inizi del 2024 il primo lotto dei lavori sarà completato e riaprirà l'appartamento della Iole, il primo a chiudere nei mesi scorsi. Qui sarà possibile ammirare, prosegue il direttore, la diversa disposizione delle opere dettata da nuovi criteri di musealizzazione che caratterizzano il riallestimento del Piano Nobile, ovvero si cambia. E quindi è anche una buona occasione per riandare a rivedere Palazzo Ducale, chi non l'ha mai visto sarà una bellissima prima volta, per gli altri invece una immagine del tutto nuova di questo grande monumento del Rinascimento italiano. A Mercatello, Mercatello conquista la bandiera Lilla, riconoscimento al Comune per aver privilegiato il turismo accessibile, l'amministrazione è attenta alla disabilità. Fernanda Sacchi, dietro ogni certificazione c'è un lavoro enorme delle amministrazioni, ha dichiarato. E poi vediamo Fossombrone, a Fossombrone scoppia la rissa anche nella notte delle Perseidi, il cielo in questi giorni è veramente splendido, bisognerebbe andarlo a vedere dove non c'è l'inquinamento religioso per riuscire a riscoprire se non altro la Via Lattea, ma gruppi di stelle come le Perseidi sono veramente uno spettacolo eccezionale. Se poi si osservano anche le stelle cadenti, lo spettacolo è bellissimo. Come qualcuno avrà notato, quest'anno Fossombrone, la notte delle Perseidi non è stata celebrata il 9 e 10 agosto, ma lo sarà il prossimo 10 settembre. Quindi segnatevi questo appuntamento nella vostra agenda. Vediamo le pagine di Pesaro. Le mamme scendono in strada per protestare, abbiamo altri articoli rispetto a quelli dei giorni scorsi, contro l'eventuale trasferimento del reparto di pediatria all'ospedale Santa Croce di Fano. Non vogliamo partorire a Fano, dicono le mamme, ma il caso pediatria non è un derby. Riunione via web per una trentina di donne pesaresi che si battono contro la chiusura del reparto, non possono togliercelo di nuovo e anche loro parteciperanno alla manifestazione. Ebbene, questo è un problema che dovrà risolvere ovviamente ora sia la Regione che la direttrice generale dell'azienda sanitaria territoriale Storti. Laura Marmuset ed Eleonora Bassi con i figli, ecco qui le due signore, sono due delle mamme in prima linea nella battaglia per la salvaguardia della pediatria pesarese. Ed ora diamo un occhiato a quanto costa il gelato, non meno di 3 euro per due gusti. Al chilo si arriva anche a 24 euro, ma è alta anche la qualità, insomma quando crescono i prezzi si dice sempre che la qualità è migliore e quindi è un po' un modo per fare digerire questo problema ai consumatori. Il Carlino oggi fa un giro tra i principali negozi cittadini. I prezzi sono cresciuti ovunque, i titolari dice facciamo del nostro meglio, ma i costi aumentano anche per noi. 3 euro il prezzo standard della coppetta piccola. E poi se si vogliono tre gusti si passa a 3 euro e mezzo. Poi 4 euro per il cono grande. Al chilogrammo si oscilla tra i 22 e i 24 euro. Alcune propongono anche la coppa base per i bambini a 2 euro con un solo gusto. Ebbene il gelato è buono, però costa, costa parecchio. Se pensate che una famiglia di quattro persone deve spendere 3 euro e mezzo, 4 euro per un gelato, beh comunque comincia a essere una bella spesa. Per quanto riguarda la cronaca, la polizia è riuscita ad individuare un pusher, un pusher minorenne. Aveva 17 anni ed era residente, è residente a Pantano. È stato trovato con un chilo di fumo, la droga nascosta nella cameretta. Appena ha capito di essere stato individuato, il ragazzo, che ora è stato rinchiuso nell'istituto penale di Bologna, ha consegnato tutto agli agenti. Prima ha tirato fuori dal comodino due panetti di Ascis, un bilancino e un altro pezzo di stupefacente. Poi quando ha capito che gli agenti avrebbero perquisito la sua stanza, ha consegnato lo zainetto con altra droga. Dentro c'erano nove panetti di Ascis, materiale per il frazionamento, peso totale oltre un chilo. Ebbene, poi gli è stato convalidato appunto l'arresto. Veniamo anche al ROF che sta per finire, ma la lirica a Pesaro continuerà. Il bel canto ritrovato allunga la scia un'altra serie di concerti. Presentata la rassegna che propone ai melomani, ovvero agli amanti del bel canto, la riscoperta degli autori minori dell'Ottocento. Quest'anno sarà riportato alla luce il birraio di Preston. Ci sono delle iniziative che si svolgono un po' in tutta la provincia. Per esempio domani a Fano, alla Corte Malatestiana, verrà appunto realizzato un concerto sinfonico I nostri per Rossini. Musiche di Agolini, Caraffa, Monbelli, Romani, Teadolini e autori per riscoprire la collaborazione con l'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. Venerdì a Pesaro, al Museo Nazionale Rossini, alle ore 11, Luigi Ricci, profilo di un grande artista. Sabato ad Urbino, in Piazza Duca Federico alle 21, i nostri per Rossini. E domenica, sempre ad Urbino, in Piazza Duca Federico alle 21, il bel canto marchigiano. Quindi musica veramente di grande livello e di grande qualità. Veniamo ora al Corriere Adriatico, vediamo l'apertura sulla pagina di Fano che è dedicata ai lavori che si stanno eseguendo negli impianti sportivi. Lavori in sei impianti sportivi, una partita da 100.000 euro, una palestra, tre campi da calcio, struttura polivalente, outdoor e tiro a volo. A settembre veramente inizierà tutta una serie di lavori nelle strutture sportive di Fano e cominceranno anche i lavori per quanto riguarda la pista sportiva della trave, la zona sportiva della trave dove si porrà mano al consolidamento della tribuna e alla realizzazione di un nuovo impianto coperto, un nuovo impianto indoor per svolgersi gare di atletica. E poi anche il Corriere parla della bambina e della mamma investite sulle strisce. Una cagnolina terrorizzata finisce tra i rovi, vista e salvata, è scappata dalla padrona per lo scoppio di fuochi. Ebbene sono diversi i salvataggi di animali. Ricordiamo i giorni scorsi il cagnolino che era penetrato all'interno del motore di un'auto, salvato, estratto dai vigili del fuoco di Fano. Un museo galleggiante della civiltà marinara, immersione interattiva con impatto zero, grandi partner nazionali per realizzare l'installazione che comprende anche la nave Scimitar. È uno dei grandi progetti in itinere da parte dell'assessorato al turismo e alle aziende produttive delle comune di Fano che è già intrapreso la valorizzazione di tutto l'ambiente del porto. Abbiamo la Fano marinara, la Fano gastronomica che invitano turisti proprio a recarsi fisicamente, a percorrere un itinerario in zona portuale, un itinerario ovviamente molto suggestivo dal punto di vista del colore locale, ma ora si realizzeranno nuove strutture. Per esempio nella Scimitar verrà realizzato un centro di ricevimento, di informazione e di accoglimento, ma anche una grande videosfera dove verranno proiettate tutte le immagini che riguardano la nostra marineria. E chi è dentro parrà proprio di essere all'interno di un peschereggio. Ci sarà una sensazione virtuale che annullerà quello che c'è di reale all'interno e tutto assumerà una dimensione virtuale. Veniamo a Barchi. A Barchi si parla di vandalismo. Lo abbiamo visto, ragazzini davanti alla spycam, vandalizzato il centro sportivo. Porte prese a calci, mura imbrattate di spray nero. Si visionano le telecamere. E poi ancora martellate alla panchina. Sono falegname. Un ubriaco si rivolta contro i vigili urbani e ferisce un agente. Va a processo e appunto gli agenti della Municipale di Fano lo avevano notato. E lui ha combinato un tale parapiglia che gli è costato l'arresto. Giriamo ancora la pagina. Veniamo a Marotta. A Marotta. Auto in sosta con finestrini aperti. Turisti multati vicino alla stazione. Tonelli nel verbale violazione scritta a mano perché non contemplata. Ebbene a volte servirebbe almeno un po' di buonsenso. Non dico a volte ma servirebbe sempre. Il consigliere comunale Alessandro Tonelli pochi giorni fa ha raccolto la segnalazione da parte di alcuni turisti in vacanza a Marotta che sono stati sanzionati dalla polizia locale per aver lasciato un'automobile in sosta con i finestrini parzialmente aperti nel parcheggio della stazione. Beh insomma non credo che ci sia un reato da questa situazione ma secondo i vigili era un modo che non doveva essere realizzato non doveva essere fatto e quindi è giunta la munta. Vediamo. È interessante leggere quest'articolo per poi entrare nei particolari. E veniamo a Senigallia. Vediamo le immagini di fuochi pirotecnici, di fuochi artificiali. In migliaia ha lo show dei fuochi e da domani c'è la fiera campionaria. Boom di presenze e traffico in tilt sul lungomare. Fino al 30 agosto la fiera con 50 espositori. E invece per quanto riguarda Fano vogliamo dire che domani inizia la fiera di San Bartolomeo. Anch'essa terminerà con uno spettacolo pirotecnico. Lo stesso spettacolo che è stato annullato durante la festa del mare a Fano. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. A risentirci.